Gli uomini che sono sortiti dal boschetto e la campana rama che scherreggono e il capo lievato che cammino tutto dritto che sembra che ho da misello da rieggio Una pace è marciata e la gente è la villa che è passata in montagna tutto seguito, tutto tranquillo e quando sei re sull'ed non hai passato di tari e già ti spero del re che è in caiavari Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!